Roio Piano, frazione del comune dell'Aquila. A sette anni e mezzo dal terremoto del s'aprile 2009, il centro storico medievale è ancora un rudere invaso dall'erbacce, abitato dal silenzio e dall'attesa e forse anche dalla rassegnazione. Ma quello che forse fa più rabbia è che simile destino è toccato anche al centro polivalente, costruito proprio per dare una risposta immediata ad una comunità senza più un paese e luoghi di incontro. Inaugurato nell'ottobre 2012, realizzato dalla Caritas, con un milione di euro di donazioni post-sismiche. A complicare le cose è la solita burocrazia, problemi si sono verificati ad esempio con l'accatastamento e la definitiva dichiarazione di agibilità che ha impedito il passaggio di consegne da Caritas Comune. Nell'interminabile attesa, la struttura, inutilizzata per lunghi quattro anni, sta però intanto degradando, sulle pareti sono visibili ad esempio i segni di infiltrazione d'acqua dal tetto. Una beffa, un motivo di immensa amarezza, soprattutto per l'associazione Abruzzo Autismo Ollus, che da anni chiede di poter utilizzare la struttura, dotata di sei mini appartamenti, cucine, di ampi e luminosi locali senza barriere architettoniche. Un edificio ideale insomma per l'innovativo progetto Weekend Respiro, che prevede soggiorni ludici e terapeutici nei fine settimana per persone autistiche e le loro famiglie. Il presidente dell'associazione, Dario Verzulli, padre di una ragazza autistica, ha più volte incontrato la curia chiulana e il comune per proporre questa destinazione d'uso, ricevendo solo pacche sulle spalle e rassicurazioni, mentre l'Ortica, la Vitalbe e la Cicoria crescono rigogliose intorno al centro polivalente. Ci pensavo qualche giorno fa, proprio a valle dell'emergenza del sisma di Amatrice di quei territori, quale valenza e quale utilità potrebbe rappresentare questo centro polifunzionale con anche degli alloggi, sia appartamenti perfettamente arredati. Tra l'altro io ricordo agli ascoltatori che noi abbiamo presentato un'istanza specifica come associazione per la gestione di questo centro, in condivisione con le associazioni locali e la comunità locale di Roio, affinché divenisse un luogo di riferimento per i weekend di respiro, c'è un luogo dove attività di respiro per le famiglie con autismo potesse essere garantito sia alle famiglie aquilane ma a quelle abruzzesi. Per noi è oro colato una struttura del genere, però speriamo che prima o poi vengano utilizzate.